Il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno ha ritirato le dimissioni e ha escluso al momento rimpasti di giunta. Acclarata la critica situazione debitoria ha approvato il bilancio di previsione a larghissima maggioranza. Si legge nella lettera con la quale il sindaco ritira le dimissioni. Credo sia giunto il momento di affrontare di petto le criticità perché è ancora concreto il rischio del dissesto finanziario del comune. Maragno ha parlato di problemi emersi in tutta la loro reale portata a cominciare dallo sforamento del patto di stabilità per oltre 11 milioni di euro al 30 giugno un dato che condizionerà pesantemente ogni scelta futura. Ho giurato fedeltà allo Stato e quel giuramento non posso e soprattutto non voglio tradirlo né ora e né mai ribadisce Maragno che non si pone il problema di coloro che hanno votato contro. Il nostro obiettivo e il nostro interesse è solo ed esclusivamente fare le riforme necessarie a rilanciare questo territorio. A cominciare da tutte quelle procedure che dobbiamo eseguire per evitare il dissesto del comune a fine anno e già nei prossimi minuti ci incontreremo in giunta per verificare tutti gli accordamenti necessari. Per quanto riguarda le persone che hanno votato contro io questo problema non me lo pongo perché nel momento in cui c'è stata la candidatura hanno sposato un progetto hanno sposato un programma questo programma noi intendiamo portarlo avanti nell'esclusivo interesse della città.